adesso lampeggia perfetto biker dal sabato vi filmo tutti vai vai c'è la variante qua no e qua la moia questa qui che diceva prima no no ma com'è sinistra porco due facciamo vai vai dove guarda visto qua troia era un po' in giro strano lì queste qui sono pericolose ma porca troia ho troppo paura di picchiare anche perché no si è l'unica eh si porca vacca occhio qua eh no troppi niente opla qui da qui porca vacca saporita aspetta che stai arrivare rigoni di asiago no più che d'altro lì è facile è facile farsi male se lì vai dentro ma io sto un po' attento alle pietre proprio così così no no non attento di più perché no no si il portafoglio si è scioccato mi affonda dai libretti la ria è neanche a torto no di zoom non è visto che ti sto filmando come non è come non è dove sono porco ciò ecco ho montato questa cartizia eh com'è cambia un pochettino ma se non hai fatto grandi salti lasciala così almeno sei dalla parte della ragione ah la lunga e beh quello fa arrivano ecco qua occhio qua che è tagliato occhio qua Gigi Gigi occhio è l'esauria a mio passai dio allora la ruota va bene gira allora gira la ruota gira la ruota si vai davanti lo buson ah non so neanche io sai perca vacca ma chi sei porca troia dillo che girano su gli altri hanno visto hanno visto gli altri ed è ma chi è che è ti è ricotti no ti ho preso la pinza ma perché si ma figursi ma no guarda che è figata lo prende giù una ce l'ho io e poi la una le devo dar per la pratica porca giuda Porca paca Porca troia, da la bastarda Porca mano Deve mai dirlo? Cosa dirlo? Che era il birch? Dove sei caduto te Paolo? Dov'è? Dov'è? Dov'è la nocciola? Aspetta qua Perché con la spalla se sei in piedi la prendi Aspetta perché non riusciamo a fermarci lì che c'è il salto Che già partire da fermo qui è una cagata Che facile agganciarlo Non lo so Dove siamo? Verso Noveis? Andate pure eh È caduto È caduto Ma sei caduto? È caduto 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 Grazie a tutti. E' anch'io. Ma d'ora se scivoli qua. Cattroia. Pianta. E' anch'io. L'abbiamo fatto sporca. L'abbiamo fatto due mesi fa. L'abbiamo fatto due mesi fa. L'abbiamo fatto due mesi fa. Era così? E dove esci? Mi piacerebbe provarlo. L'aggancio. Com'è il numero di scarpe? 41. Quella con i tacchi 41. Se vuoi c'è un paio di Shimano pedali. Sono un po' usati. No ma non mi interessa. Ma è da provare. Ti do anche le scarpe se vuoi. Io 42 ma come lì se un Shimano 41 o 42. Ma non le adopri o le adopri te? Si ne mette due insieme. Quelli però se organizziamo una giornata da provo. Ti metti quelle con il tacco. Quelle con il tacco. Tacco 20 si è a posto. No no da sdotti. Tra l'altro quelli lì sono un po' consumati i pedali. Quindi si sganciano più facilmente. Ma li metto più meglio. Che è meglio li metto. Abbiamo visto che si sganciano bene. Si. Si si. Ma come vuoi puigliare o puigliare? La puigliare? Si 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 la puigliare. La puigliare. La puigliare. La puigliare. La puigliare. La puigliare. Invece. Prima del south. O scodisco. Eccola. Qua l'abbiamo finito. ce n'è ancora. Oh. Abbiamo finito qua. È bella però. È bella. È bella. La puigliare.